Da sabato 1 maggio, essendo la Toscana tornata in zona gialla, viene riattivata la zona di traffico limitato con orario 10-20 nei giorni festivi e ovviamente nelle domeniche. Avevamo inteso, quando era in zona arancione e zona rossa, favorire l'ingresso anche nel centro storico perché poteva essere utile per raggiungere l'eventuale farmacia aperta o da altri esercizi, in particolare quelle di genere alimentari, ritornando però in zona gialla e quindi con minori misure restrittive ci è sembrato giusto e coerente rispetto alla delibera che avevamo preso in giunta di riattivare la ZTL e quindi di riconsentire una fruizione pedonale ad ampio raggio nei giorni festivi e nelle domeniche.